Accogliamo su eminenza il Cardinal Luis Francisco Ladario Ferrer. Grazie, grazie, grazie. È una grande gioia per me essere qui con voi. Allora, essi si chiameranno Piantagione del Signore per manifestare la sua gloria, Isaia 31. Allora, l'azione dello Spirito Santo è stata sempre all'opera nella storia dell'umanità, a cominciare dalla creazione, lo troviamo già nel racconto della Genesi. La Chiesa ha sempre visto prefigurata la sua identità nella storia del popolo di Israele. In questa ottica, la Piantagione del Signore, di cui parla il profeta Isaia, anticipa la nascita della Chiesa, con i suoi doni e i suoi carismi, a servizio dell'unico popolo di Dio. Il compito di quest'anni del rinnovamento dello Spirito è stato l'accentuazione della dimensione carismatica della comunità, non solo come un'esperienza delle origini, ma come una realità che investi oggi tutta la Chiesa, ogni momento della Chiesa. Nella storia della Chiesa, la prima enciclica, interamente dedicata allo Spirito Santo, è la Divinum Illut di Leone XIII, dove è emesso in particolare risalto il ruolo ecclesiale dello Spirito, come colui attraverso il quale la Chiesa prolunga l'opera redentriva di Cristo. Nella scelta del tema di quest'anno, si sia chiesto di approfondire le origini dell'identità e della missione della Chiesa e la sua intrinseca relazione con l'esperienza della comunità israelitica, la comunità dell'Antico Testamento. In questa meditazione metteremo in risalto come la realtà della comunità, fecondata dai doni dello Spirito, raggiunge il suo punto culminante con la venuta di Cristo, con la sua morte e con la consogna del suo Spirito. Ancora oggi la Chiesa pianta giorni del Signore, tra doni carismatici e gerarchici, continua la sua missione nella storia. La profezia di Isaia. Il profeta Isaia ebbe da Dio quest'ordine. Rinchiudi questa testimonianza e sigilla questo insegnamento nel cuore dei miei discepoli. Isaia 8. Il libro di Isaia è uno scritto molto antico. Il regno di Giuda attraversa un periodo di ribellione, di tensioni tumultuose, rischiando la completa distruzione da parte della Giria e dell'Egitto. Il profeta annuncia la liberazione e la misericordia da parte di Dio tramite un profondo messaggio di rinnovamento e di speranza. Il centro di questo messaggio si condensa nell'attesa della salvezza all'opera del Messia. E lì un giorno governerà con giustizia e porterà pace e salvezza a Israele, chiamato piantagione del Signore, che molto spesso non accoglie i comandamenti e non ascolta la parola di Dio. Conosciamo bene questa storia. La terra di Giuda è paragonata ad una vigna che sarà danneggiata. La vigna è Israele, ma solo la promessa di Dio la salverà. Il servo sofferente profetizzato da Isaia porterà perdono e guarigione e cancellerà il peccato del popolo in virtù dei suoi travagli. Il Messia è l'Emmanuele, concepito dal grembo di una donna vergine, che annuncerà la salvezza nella terra di Giuda. Egli porterà una feconda armonia del creato, quale il regno di giustizia e di pace. E quest'opera è una ristaurazione rispetto al peccato degli origini. L'Emmanuele è il servo di Giave. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Ma nelle sue piaghe noi siamo stati guariti. La piantagione del Signore è la sua vigna, il popolo eletto, santo, divenendo il sacerdozio regale e la nazione santa. Anche l'alleanza che Dio ha concluso con il suo popolo è chiamata Santa Alleanza. Isaia nelle sue visioni vede unita in Dio la gloria alla santità interiore. E il profeta Osea vede posta la santità divina nell'amore paterno di Dio verso il suo popolo. In Geremia Yahweh si viene incontro come il santo di Israele. Il Dio santo non è soltanto il giudice, ma molto di più. Il Dio creatore è ancora di più. E il Dio salvatore. In questa prospettiva Isaia conferma la presenza dello Spirito nella missione del servo sofferente. Lo Spirito di Yahweh è collegato alla promessa. Infatti, nel contesto dell'alleanza, lo Spirito che proviene da Dio può agire se viene accolto dall'uomo, come principio instauratore di liberazione e di giustizia. Questa irruzione dello Spirito di Dio si fa presente nella storia di Israele tramite il dono e la potenza di Dio nei riguardi di persone da Lui scelte, inviati come enunciatori, mediatori della promessa. A cominciare dall'esilio, l'unzione dello Spirito è conferita non solo ai profeti, ma anche ai giudici, ai re, ai sacerdoti di Israele. Nel particolare periodo dell'esilio, nel messaggio dei profeti, Geremia, Ezechiele, Gioele, Zaccaria, si assiste a un processo di interiorizzazione del dono dello Spirito. Si tratta di uno Spirito nuovo, posto nel cuore dell'uomo. Conosciamo tutti il profeta Ezechiele, su questo punto. Emblematica in questo punto la promessa di Israele, del profeta Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno Spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Lo Spirito è un dono stabile su tutto il popolo. Così dice Zaccaria, riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno Spirito di grazia e di consolazione. guarderanno a me, colui che hanno trafito. La Ruà, intesa in tal modo, incarna la forza e la fecondità creatrice di Dio, il quale dona l'essere alla sua creatura non soltanto nel momento iniziale della sua esistenza, ma incessantemente. In assenza della Ruà, lo Spirito, l'uomo, vene meno. Da tale esperienza emerge un aspetto essenziale della testimonianza vedero-testamentaria, l'intrinsico collegamento alla promessa dello Spirito di Gavè. Infatti, è proprio nel contesto dell'alleanza che lo Spirito, proveniente di Gavè, può agire, se accolto dalla creatura umana, come principio instauratore di liberazione e di giustizia. Il suo invio è la presenza e l'azione di Dio stesso nella storia del suo popolo, il quale tende verso una pienezza, l'irrompere dello Spirito, nella sua effusione scatologica e condizione dell'avvento della comunione piena tra Dio e il suo popolo e della giustizia liberatrice tra gli uomini. Tale irruzione si fa evidente nella storia di Israele attraverso il dono della parola, e della potenza di Gavè a persone da Lui scelte e inviate come annunciatori e mediatori dell'alleanza e della promessa. La Chiesa Santa è prefigurata nella piantazione del Signore. Nella profonda e spirituale profezia di Israele la comunità è proprio la piantagione del Signore. La Chiesa vede in essa la preparazio, la figura di quel nuovo popolo di Dio che a partire di Abele fino all'ultimo eletto, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, sarà riunito presso il Padre nella Chiesa universale. Al pari di Israele, piantagione del Signore, la Chiesa nascente si concepisce come popolo in essodo, come Israele di Dio, riunito nelle dodici tribù di Israele. La scelta dei dodici mostra come lo stesso Gesù abbia concepito la sua comunità in continuità con Israele, vivendo in tal senso la speranza scatologica, come si parla dell'Apocalisse, e infatti la relazione con il Dio dell'alleanza, l'elemento di continuità fra l'Antico e il Nuovo Patto. Entrambe sono popolo di Dio. La Chiesa vede prefigurato in queste profezie il Messia Gesù, anche egli tradito e rifiutato come Isaia, abbandonato da Dio e crocifisso per le nostre infedeltà. L'autore della lettera agli ebrei sostiene che Cristo ha pagato la punizione che noi meritavamo nel suo perfetto sacrificio sulla croce, eppur non avendo commesso peccato, si è addossato la nostra iniquità. Paolo nella seconda Corinti 5. La Chiesa non può dimenticare di aver ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo cui in chi Dio si è degnato stipulare l'alleanza. Nel disegno salvifico di Dio, il popolo eletto Israele ha un ruolo decisivo. La stessa Chiesa non potrà comprendere la propria identità senza riferirsi alla santa radice che è Israele. Così la lettera ai Romani se le primizie sono sante lo sarà anche l'impasto e se è santa la radice lo saranno anche i rami che evidenziano come la Chiesa si concepisce come popolo in essolo l'Israele di Dio. Per la comunità cristiana nascente il servo sofferente è prefigurato Gesù l'unto di Dio e nella comunità eletta piantagione di Yahweh è prefigurata la Chiesa anche e coloro che accoglieranno il Messia diventeranno piantagione del Signore. Faranno anch'essi parte della stessa santità di Dio che è santo nei suoi stesso essere. A Lui è soltanto dovuta la lode. Cristo è il santo l'unto di Dio e contemporaneamente figlio di Davide figlio di Dio che Satana della prima cacciata del demonio in Marco chiama il santo di Dio e che l'annuncio del primo cristianesimo del servo di Dio viene indicato semplicemente come il santo. La comunità in questo modo partecipe allo spazio santo di Dio santo in seno vero e proprio è soltanto Dio e tutto ciò che oltre a Dio è detto santo acquisisce il diritto a tale affermazione in base al suo rapporto con Dio tre volte santo. Santo quindi non è solo un'affermazione di valore morale ma riguarda ma riguarda anzitutto l'essere il termino santo ha tanto in ebraico il kadosh quanto in latino un significato eminentemente cultuale che indica lo spazio della divinità separato dal mondo non santo profano l'espressione greca hagios è legata alla reazione umana di fronte al divino nelle sue visioni Isaia vede il Signore che siete sul trono e i serafini che acclamano davanti a lui santo 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 il Signore degli eserciti eccetera mentre in un'altra profezia il Signore dice di se stesso perché così parla l'alto e l'eccelso che ha una sede eterna e il cui nome è santo in un luogo eccelso e santo io dimoro Isaia 57 far parte della piantagione del Signore vuol dire fare esperienza profonda di un cammino esodale di uscita da noi stessi verso la santità di Dio un percorso entusiasmante che vede coinvolti tutti coloro che si lasciano formare dallo Spirito di Dio questa esperienza di santità per voi significa ascoltare la voce dello Spirito che è anche in questo tempo cruciale di prova segnato dalla pandemia e dalla guerra come da tante altre difficoltà apre sempre delle prospettive nuove e inattese